La NASA è la più grande e potente organizzazione spaziale del mondo. Più volte si è sentito dire che la NASA possiede informazioni sullo spazio e sugli alieni che non condivide con la gente comune del mondo. Più volte gli informatori hanno fatto trapelare immagini soppresse o hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche su ciò che sta realmente accadendo alla NASA. Dobbiamo chiederci perché certe foto vengono nascoste al pubblico? Quali informazioni esplosive contengono queste foto? Rimanete sintonizzati mentre indaghiamo su questi misteri e scopriamo i file vietati della NASA. Dal cortile di casa all'organizzazione mondiale Nel 1958 la NASA fu fondata come National Aeronautics and Space Administration in un ufficio nel cortile di casa. L'obiettivo dell'allora insignificante organizzazione era quello di supervisionare i nascenti progetti spaziali degli Stati Uniti. Poco tempo dopo la NASA divenne un'agenzia governativa ufficiale. Se in futuro l'importanza dei viaggi spaziali aumenterà e se gli esseri umani colonizzassero lo spazio, il potere della NASA continuerà a crescere. Fin qui tutto bene, se non fosse per le voci che dicono che la NASA, così come il governo degli Stati Uniti, il Pentagono e la CIA non sono del tutto puliti. Le voci dicono che la NASA è stata fondata fin dall'inizio per perseguire una politica di copertura nei confronti della popolazione normale. Alla fine degli anni 40 un missile si è schiantato sopra Roswell negli Stati Uniti, descritto dai testimoni oculari come una grande disco volante di color argentato e alcuni testimoni oculari affermano di aver visto due corpi senza vita di entità non umane recuperati sul posto. In quel periodo gli avvistamenti di alieni e UFO aumentarono. Il governo e più tardi l'ancora giovane NASA sostennero sempre che queste segnalazioni erano isterismi o illusioni ottiche, fino a quando non comparvero sulla scena informatori segreti che sostenevano esattamente il contrario. Un esempio importante è Donna Hare, un ex dipendente della NASA, che avrebbe ritoccato migliaia di foto per conto dell'Agenzia Spaziale, ma cerchiamo di farci un'idea personale di ciò che sta realmente accadendo alla NASA. La NASA sta nascondendo qualcosa su Marte? Dobbiamo molto alla NASA, questo è chiaro. Senza il programma spaziale americano probabilmente non sapremmo molto sull'universo. Non avremmo mai visto immagini affascinanti di nebulose cosmiche, buchi neri e quasar. Ma è possibile che l'Agenzia abbia più informazioni di quante ne condivida con il pubblico? Forse. Di certo non possiamo giudicare immagini e impressioni che non abbiamo mai visto. Non sappiamo cosa la NASA stia tenendo nascosto. Queste immagini, che sicuramente sono diventate pubbliche, sono tra i punti di scontro tra i critici della NASA e i portavoce ufficiali dell'Agenzia Spaziale. Molte delle immagini provengono da Marte. In parte questo è dovuto al fatto che Marte è oggi il corpo celeste più studiato e fotografato al di fuori della Terra. Si prevede che gli esseri umani vi atterreranno con le astronavi entro il prossimo decennio e stabiliranno le prime stazioni di ricerca e i primi insediamenti sul posto. Ma è davvero giustificabile alla luce di queste foto? Nel 2015 gli appassionati di spazio hanno scoperto questa formazione circolare sulle immagini della superficie marziana rilasciate ufficialmente che, beh, ha indovinato. Questa formazione ricorda un po' la stone edge terrestre e di conseguenza la disposizione quasi circolare delle rocce ha preso il nome di Mars edge. Oltre alla disposizione delle pietre sorprendono anche le fondamenta del monumento, che sembrano quasi esagonali. Sulla Terra Stone edge è stato identificato dagli scienziati come un osservatorio stellare preistorico. Ma a cosa poteva servire questa formazione e soprattutto chi l'ha costruita? Secondo la NASA si tratta solo di coincidenze. Queste pietre si sono formate solo grazie al vento, alle intemperie e all'erosione. Ma possiamo davvero esserne così sicuri? È proprio questa la sicurezza con cui gli scienziati della NASA respingono ogni riferimento al funzionamento di forme di vita superiori al di fuori della Terra. Inoltre la NASA cerca ufficialmente proprio queste tracce. Le persone sono confuse da questo comportamento dell'Agenzia Spaziale e sorgono sempre più dubbi sul fatto che la NASA non stia facendo un gigantesco gioco di confusione sugli alieni, su Marte o altrove. Fino ad oggi nessuno sa chi abbia avuto le forze e la capacità mentale, migliaia di anni fa, di creare strutture come Stonehenge sulla Terra. Quindi, come può un terrestre sapere con certezza chi potrebbe aver vissuto su Marte e se questa formazione è davvero dovuta al caso e all'erosione? Piramidi di Marte Fin dagli anni 70 si dice che la NASA abbia tenuto nascoste le foto delle piramidi marziane fino a quando non sono trapelate. Il numero di strutture a forma di piramide su Marte è quasi spaventoso. Non solo le piramidi fotografate negli anni 70 dalle sonde ricordano in modo sorprendente le fenomenali strutture presenti sulla Terra, ma anche il rover Curiosity della NASA ha catturato nuovissime immagini di piramidi. Il rover Curiosity è un'automobile che da oltre dieci anni viaggia nel cratere Gale sulla superficie di Marte per studiare le formazioni rocciose. In realtà, l'obiettivo principale di questo robot spaziale è studiare il clima di Marte e la sua geologia. Il cratere Gale potrebbe essere stato un tempo pieno d'acqua fino a quando Marte si è misteriosamente prosciugato. Le simulazioni al computer hanno dimostrato che diversi milioni di anni fa il nostro pianeta vicino era un mondo acquatico con un clima mite e forse con la vita. Quindi, come facciamo noi, o meglio la NASA, a sapere con certezza che lì non c'era anche una civiltà superiore, le cui strutture precedenti sono ora sepolte sotto spessi strati di polvere marziana? Si presume che il periodo di abitabilità non sia stato sufficiente per permettere lo sviluppo della vita, secondo i parametri terrestri. Ma proprio qui potrebbe risiedere l'errore. Molto probabilmente non possiamo paragonare l'evoluzione su altri pianeti con lo sviluppo della vita sulla Terra. Tutto solo illusioni ottiche? Quando si tratta di chiarire le voci sugli alieni su Marte, gli oppositori di queste teorie amano tirare in ballo l'esempio della faccia marziana. Questa formazione, scoperta negli anni 70, assomiglia a un volto umano. Per decenni l'immagine è stata al centro delle speculazioni sugli esseri umani marziani, poi è stata demistificata nel presente. L'impressione di un volto era causata solo dal gioco di incidenza della luce e delle ombre, oltre che da un effetto mentale noto come pareidolia. La pareidolia si verifica quando il cervello vede improvvisamente cose che assomigliano a strutture umane in ambienti aridi, come deserti di rocce e massi. Le impronte di volti ed edifici appaiono improvvisamente nelle rocce e anche le piramidi di Marte sono ritenute illusioni o errori di calcolo da parte del cervello. La teoria del sottosuolo Quando i geologi marziani hanno trovato sempre più prove che l'acqua su Marte potrebbe essersi ritirata nel sottosuolo, alcuni appassionati di UFO e di fantascienza hanno sviluppato la teoria che le creature che vivono ancora oggi su Marte potrebbero essersi ritirate nel sottosuolo. A dire il vero, anche i rinomati ricercatori ammettono che il sottosuolo marziano potrebbe essere un ambiente abitabile per i coloni del futuro. Tuttavia questo è ben lontano dalle speculazioni, secondo cui su Marte ci sarebbero già insediamenti sotterranei di una civiltà sconosciuta. Un'ulteriore prova della teoria del sottosuolo sarebbe questa foto. Questa porta rettangolare è stata scoperta dal rover Mars Curiosity in una formazione rocciosa. La somiglianza con una porta o un portale di mondi rocciosi sotterranei o di città come le conosciamo dalla Terra è davvero convincente. A questa vista, chi non immagina un marziano che scompare rapidamente nel sottosuolo per evitare occhi indiscreti? Se diamo un'occhiata alle dimensioni della porta, però, sorge un piccolo dubbio anche tra gli amici alieni più accaniti. Perché con soli poco più di 30 centimetri di altezza, questa porta non è molto più grande di una gattaiola XXL. Se si tratta davvero di un portale per una città marziana sotterranea, i marziani devono essere persone molto piccole. La NASA mantiene il segreto sull'Apollo 11. Infine, passiamo alle foto e ai segreti che provengono dagli astronauti. Il grande mistero dei viaggi spaziali è la missione Apollo 11, con il cui treno gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin atterrarono sulla Luna alla fine degli anni Sessanta. Da allora si sono susseguite voci su ciò che è realmente accaduto sulla Luna. Già durante l'avvicinamento all'atterraggio ci furono dei problemi, perché il contatto con i due astronauti si interruppe per minuti. La NASA pensò quasi che si fossero persi, ma poi Armstrong e Aldrin riapparvero. Invece di atterrare su una parte pianeggiante della Luna, i due dovettero far atterrare la loro capsula di atterraggio Eagle su una parte molto accidentata. Questa fase del volo non è stata trasmessa in televisione, né la NASA ha riconosciuto il passo falso dopo la missione. Ma si dice che durante il volo lunare siano accadute cose ben più strane. Si dice che Armstrong abbia detto testualmente «Questi esseri sono enormi, signore, enormi. Oh mio Dio, non ci crederebbe». E dico che ci sono altre navicelle in fila sul bordo del cratere che ci osservano. Bender ha reso pubbliche le sue informazioni dopo essersi dimesso dalla NASA. La NASA ha negato e nel migliore dei casi ha etichettato persone come Bender o Donna Hare come fanatici o ex subappaltatori scontenti che volevano vendicarsi della NASA rendendo pubblica la notizia. Ma la maggior parte, le persone alla NASA rimangono semplicemente in silenzio. L'organizzazione può permettersi di farlo perché non deve rendere conto a nessuno se non al governo degli Stati Uniti e agli altri governi e agenzie spaziali coinvolti nei suoi progetti. Per quanto riguarda le sensazioni fornite nei quasi 50 anni dallo sbarco sulla Luna, le dichiarazioni di Armstrong e Aldrin nel circolo privato sono state sempre più esplicite in merito agli avvistamenti di extraterrestri e al divieto di parlare, imposto dalla NASA. Pertanto, la notizia di un bizzarro ritrovamento dopo la morte di Armstrong nel 2012 ha fatto scalpore. L'astronauta più famoso di tutti i tempi avrebbe conservato alcuni oggetti sospetti della missione Apollo in uno scrigno nel suo armadio e è stato affermato che si trattava di una macchina fotografica e di alcune piccole parti tecniche della capsula di atterraggio Eagle. Si è nuovamente scatenata un'ondata di speculazioni sulla presenza di un rullino nella macchina fotografica e su cosa avrebbero potuto mostrare queste foto. Cosa ha fotografato Ivan Wagner? Il cosmonauta russo Ivan Wagner si trovava sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2020. Durante la sua permanenza ha filmato una serie di cinque luci che ha spontaneamente definito visitatori. In via non ufficiale si dice che oggetti volanti sconosciuti appaiono costantemente intorno alla ISS e, ancora una volta, si dice che gli astronauti debbano fare voto di silenzio su questi oggetti prima ancora di essere approvati per i programmi. Il termine visitatore è presumibilmente normale per gli astronauti sulla ISS come per noi sulla Terra, solo che in questo caso i visitatori non sono certo persone o il gatto del vicino. Wagner ha postato la foto sui social, commentando di aver segnalato la sua scoperta all'Agenzia Spaziale Russa. L'agenzia ha classificato l'incidente come interessante, ma niente di più. Cosa pensi abbiano visto davvero questi astronauti? E ci sono creature viventi su Marte che ci vengono tenute nascoste? Se sì, perché?